Super Time Force, il nuovo videogame sviluppato da Capybara Games, si presenta al pubblico come uno sparatutto stravagante, costruito su un'idea veramente eccezionale. Giocando coi paradossi temporali e incernierando le dinamiche da shoot'em up attorno ad uno stravagante concetto di rewind, Super Time Force rappresenta una delle più solide e esclusive Xbox del momento, rileggendo in maniera brillante le dinamiche e i ritmi di un genere storico. Immaginate uno shooter a scorrimento semplice e diretto, una versione pixelosa di Contra con uno stile acido e asciutto, un'estetica speccatamente retro e tanti, tantissimi proiettili. I ritmi non sono troppo indiavolati, ma lo schermo si riempie in fretta di avversari, bombe, detriti incandescenti e molte altre cose pensate solo per mandarvi al creatore. State certi di una cosa, in Super Time Force morirete spesso e volentieri. Nel titolo Capybara Games però non c'è un numero di vite da perdere prima di vedersi catapultati di fronte alla schermata continua. Anzi, i membri della squadra speciale che dà il nome alla produzione hanno una capacità molto particolare. In ogni istante possono chiamare un timeout e riavvolgere il tempo. Non aspettatevi tuttavia di dover fare come il principe di Persia, ripartire e rimettere tutto a posto, evitando l'errore che ha segnato la dipartita del vostro avatar. In Super Time Force le cose funzionano in maniera ben diversa. Dopo il timeout, infatti, avrete semplicemente la possibilità di selezionare un altro personaggio. Avanzando da questo momento con il nuovo soldato, avrete comunque al vostro fianco il precedente, che seguirà ovviamente il percorso che gli avete già fatto compiere. Ecco allora che le vite si spendono proprio per richiamare sul campo gli altri protagonisti, trovandosi dopo qualche rewind ad avanzare supportati dalle nostre stesse azioni ed avendo a disposizione la potenza di fuoco di un piccolo esercito. Nel caso in cui, tornando indietro nel tempo e riattraversando il livello accanto al vostro compagno, riusciate ad eliminare la causa della sua morte, ad esempio uccidendo il nemico che gli ha sparato prima che il fattaccio si compiesse, potrete effettuare un team up. La sagoma del vostro compagno se ne starà ferma nel luogo dove sarebbe dovuto morire, e voi potrete recuperarla per acquisire la sua essenza temporale, che vi darà in sostanza uno scudo protettivo e potenzierà il vostro attacco speciale. Spronati dal conto alla rovescia a procedere il più velocemente possibile, ci si trova quindi a schizzare avanti e indietro nel tessuto temporale, moltiplicando i ghost e i proiettili, in una serie di situazioni adrenaliniche e salvataggi al limite. A partire dai tre personaggi di base, che comunque permettono una grande varietà di approcci, il roster di personaggi si allarga, e ben presto le partite a super time force diventano un tripudio di schegge, pixel e situazioni paradossali. La somma di tutta l'esperienza è forse raccolta nei titanici scontri con i boss, in cui il rewind va utilizzato per fare in modo di colpire con più personaggi contemporaneamente i punti deboli dell'avversario. Di tanto in tanto sembra quasi di trovarsi di fronte a puzzle ben architettati, più che ad un epigono degli sparatutto da sala. Nel complesso super time force funziona alla grande, riesce a stuzzicare non solo gli appassionati del genere, ma anche chi è alla ricerca di un prodotto originale. L'ironia che permea le strambe premesse narrative si fa alle volte un po' spicciola, e più che alle noiose scene d'intermezzo, il compito di strappare un sorriso al giocatore è lasciato alle inventazioni, varie, coloratissime ed ispirate. Il team si è divertito molto a costruire scenografie curiose, avversari improbabili, a tratteggiare un'avventura che resta brillante fino alla fine, anche grazie al delizioso comparto stilistico. Il colpo d'occhio di super time force sembra un incrocio fra la pixel art del videogame di Scott Pilgrim ed un look ancora più scheletrico e sintetico che si ispira ai classici 8-bit. Super time force è uno di quei titoli che vanno provati per capire appieno tutte le implicazioni del gameplay. La moltiplicazione delle linee temporali, i paradossi che si formano andando avanti e indietro, i personaggi da salvare e l'urgenza di completare il tutto entro un certo numero di secondi sono fattori che rendono questo scrolling shooter diverso da qualsiasi altro disponibile sul mercato. Il grande numero di collezionabili e di personaggi segreti spinge a giocare e rigiocare ogni livello, affinando la propria conoscenza delle meccaniche. Oltre che originale, super time force è attraversato da una genialità strisciante e rappresenta l'ennesimo colpo a segno dello sperimentalismo ormai confinato quasi solo nel panorama indipendente.